Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Il mondo del giornalismo, in queste ore, è in lutto, affranto dalla scomparsa di un grande che, purtroppo, non ce l'ha fatta, lasciando la dimensione terrena. Il triste annuncio ha colpito enormemente 8 e mezzo, il programma di approfondimento quotidiano, in onda da lunedì al venerdì alle 20 e 30 sulla 7, condotto da Lily Gruber, seguitissimo dai telespettatori italiani che vogliono mantenersi aggiornati su quanto sta accadendo in Italia-Mondo. 8 e mezzo, da molti anni, è condotto dalla giornalista Lily Gruber sebbene, prima di lei, sia stato proprio il giornalista deceduto di cui parleremo, ad aver guidato il programma. Parliamo di Lanfranco Pace, al timone di 8 e mezzo dal 2008 al 2010. La notizia del decesso di Pace, che aveva 76 anni, è stata data da Il Foglio nella giornata di ieri. Il prestigioso quotidiano di cui il giornalista è stato una grande firma, ha annunciato la triste perdita. È stato sposato con Giovanna Botteri, storica inviata della RAI, con la quale ha avuta una figlia, Sara Ginevra. Un grande vuoto, quello lasciato dalla sua scomparsa nel mondo del giornalismo italiano e per il celebre programma di approfondimento. Le nostre più sentite condoglianze.